Lo stallo prolungato dei lavori alla scuola di Borgo Santa Maria è arrivato sul tavolo del Consiglio Comunale. Il plesso scolastico fu sottoposto a corposa ristrutturazione interna alla quale doveva infatti seguire una susseguente manutenzione straordinaria della pertinenza della palestra suscettibile di distacchi di cemento armato. Eppure la scuola ha le impalcature ferme da quasi due anni senza che si muova una ruspa o un operaio. Ad accendere il riflettore su questo stallo prolungato il consigliere di Prima Cepesro Emanuele Gambini che si è fatto portavoce delle famiglie e degli studenti con una interrogazione alla quale l'assessore alle nuove opere Riccardo Pozzi ha cercato di dare rassicurazioni nell'ultima seduta del Consiglio. Le operazioni svolte ci hanno permesso di valutare quella che è l'entità dei lavori necessari. A questo punto si è poi proceduta a una richiesta di un contributo ministeriale che è stato poi concesso da parte del Ministero dell'Interno, dal Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per la Finanza Locale, che con il decreto dell'8 novembre 2021 ha assegnato un importo di 380 mila euro alla Comune di Pesaro con finalità di straordinaria manutenzione dell'edificio legata anche a risparmio energetico. Attualmente sono in corso quelle che sono le procedure di progettazione al fine di poter entrare nei termini del contributo. Quindi stiamo lavorando per aggiudicare i lavori entro luglio 2022 e finirli entro l'anno. Insomma qualcosa almeno sulle carte burocratiche si muove. Galleggia invece ancora in una nebulosa la prospettiva di recupero del trentennale murales della palestra tanto caro a parte della cittadinanza di Borgo Santa Maria. Però sul murales di Borgo Santa Maria la situazione ad oggi, diciamo, non è possibile oggi quello di definire se questo potrà essere garantito oppure meno, nel senso che sono in corso le valutazioni per valutare il mantenimento e sono in corso anche valutazioni tecniche sulla consistenza dell'intonaco. Quindi parallelamente allo stesso momento stiamo cercando di capire se con gli interventi che verranno utilizzati sarà possibile salvaguardare il murales. Grazie. Grazie.